Ehi laden! Senti, non è come pensi, non è stata una mia idea! Oh lo so, è stata di Noir! Ma com'è possibile? Perché lui non farebbe neanche un cazzo di passo senza lavoro! Hanno dato il via libera! Perché avrebbero dovuto farlo? Che significa tutto quello che... Cosa? Non è possibile! Cosa?